Dando per scontato che sto parlando a un pubblico di persone che ancora non sono dei professionisti, voglio raccontarti una storia che è praticamente una cosa che mi è successa a me e dove io, in maniera proprio da idiota, sono riuscito a concentrare tutto quello che non deve fare una persona se vuole diventare un professionista, ok? Allora, mi è successo una volta che già avevo finito il conservatorio e tronfio di me, gonfio del fatto che io ero diplomato in conservatorio con 10 e pensavo di avere il mondo in mano, con impugno tutte le mie conoscenze musicali, eccetera, io potevo conquistare il mondo che da un certo punto di vista è una cosa bella, ma dall'altro punto di vista in verità mi ha fatto fare una serie di errori tutti con la stessa band, tutti insieme, ok? E per me questo è stato, in verità, un grande motivo di riflessione e oggi, a distanza di tantissimi anni da quel momento, se ci ripenso, fondamentalmente dico ringrazio Dio che è successa questa cosa perché ho avuto modo di riflettere su tante cose concatenate, sbagliate e ho, grazie a questa band, e devo ringraziare questa band che mi ha cacciato a male parole dal loro progetto li ringrazio ancora perché mi hanno portato a riflettere sul mio atteggiamento che è in verità la chiave di volta per fare questo mestiere, ok? Quindi, grazie a queste persone che in verità ad oggi non sono dei professionisti ma che erano molto professionali all'epoca, avendo una cover band e mi hanno fatto sentire così, come si dice a Roma, così una merda che fondamentalmente mi hanno aperto gli occhi me li hanno aperti di più loro in cinque minuti in un garage suonando delle cover piuttosto che tutto il periodo del conservatorio, ok? cioè, veramente mi hanno aperto gli occhi questi ragazzi e li ringrazio ancora allora, che cosa è successo? vengo chiamato da un mio amico e questo qui, dato che io ero diplomato col Massimo Devoto in conservatorio suonavo la batteria, leggevo la musica trascrivevo, insomma, tecnicamente ero molto bravo ovviamente sempre nel rapporto di quell'equilibrio cioè un batterista assolutamente normale ma che comunque è una persona che un po' di background ce l'ha, tecnico, ok? quindi mi chiama e mi dice senti, c'è questa band che fa questo progetto, così così il loro batterista ha lasciato il progetto cercano un batterista io gli ho parlato molto bene di te, eccetera, eccetera allora io che cosa faccio? dico sì, sì, non c'è problema dagli il mio numero, il progetto mi interessa e così mi chiamano e alla fine organizziamo una prova senti tutte le cazzate che ho fatto? senti quante ne ho fatte tutte insieme semplicemente perché pensavo che, dato che io tecnicamente sapevo fare i paradigli, i rulli allora a quel punto io avevo in pugno il mondo, ok? allora ho ascoltato i brani e dato che erano brani di artisti famosi che già un pochino conoscevo ad orecchio diciamo ho scritto delle chart delle bozze, insomma, di struttura ma molto, molto, molto alla svelta, ok? senza soffermarmi veramente sui groove principali sulle strutture sui session kick sui break, eccetera, eccetera e quindi mi sono preparato qui perché ho detto vabbè, ma tanto io ho la tecnica io sono forte io questo è un gruppo amatoriale comunque un gruppo di ragazzi che cioè, suonano ci hanno al tributo insomma, io vado là spacco tutto io sono professionista eccolo lì la malattia mentale no? vedi come subito si insinua e quindi preparo male le drum chart prima cosa seconda cosa non mi vado ad interrogare sul kit di batteria che dovevo utilizzare quindi su quali suoni c'erano da veramente importanti quindi il tipo di suono del rullante quanti tom dovevo usare se uno, due, tre insomma la struttura della batteria che tipo di piatti se c'erano degli effetti eccetera, eccetera non mi interrogo sul problema sequenze quindi usavano le sequenze loro sì, no, boh non gliel'ho chiesto un pochino in questo sono stati ho fatto anche un errore insomma, loro non me l'hanno detto io non gliel'ho chiesto quindi comunque è colpa mia e quindi non mi sono preoccupato di vedere i click di quei brani io ad orecchio dico vabbè ma tanto io ad orecchio vado bene sono forte io sono diplomato io sono figo io sono un professionista manco per niente e arrivo tardi arrivo alla prova tardi perché dico vabbè ma tanto io sono cioè io questi gli sto a fare pure un favore questi gli sto a fare un favore io perché io sono diplomato sono un professionista loro sono il gruppo che ci hanno e suonano nella cantina cioè pure se arrivo dieci minuti di tardi c'è un po' di traffico non li chiamo nemmeno eccetera eccetera arrivo lì ok arrivo lì trovo questi ragazzi educatissimi precisi eccetera tutti schierati pronti con gli strumenti in mano batteria già preparata sequenze già accese il tastierista col computer pronto tutto organizzatissimo ok questo garage che da fuori sembrava di entrare nella lampa un postaccio entro tutto fichissimo allestito benissimo insonorizzato un'acustica della madonna loro tutti con lo spartito davanti io entro ciao 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 piacere piacere loro davano per scontato che era entrata una persona competente diplomato professionista capito come entro cioè ho sbagliato le strutture dei brani non avevo idea cioè non mi ero preparato sul set dello strumento bene quindi non non mi sono soffermato a dire no ma io uso un tom uso due tom perché neanche mi ero esercitato troppo e sono arrivati in ritardo quindi questi già li ho trovati mezzi scazzati perché ero arrivato tardi non mi sono portato magari le mie attrezzature precise quindi che ne so il mio rullante il mio pedale quindi durante la prova davo anche un po' la colpa eh no ma non mi trovo col pedale non mi trovo col rullante il suono questo c'ha la pelle vecchia ho fatto proprio le cose da camafro ok proprio le cose da persona che non vuole dire a se stesso sono un coglione ok eccetera eccetera quindi una serie di cose concatenate così finisce la prova dopo poco perché alla fine ho suonato di merda nonostante io fossi un professionista nella mia testa questi educatamente chiudono la prova anche in anticipo perché avevamo detto di fare due ore di prova perché poi dopo due giorni c'era il concerto mi mandano a casa poi dopo qualche ora ricevo una telefonata guarda non sei la persona che fa per noi vaffanculo anzi ci hai fatto pure perdere tempo hanno fatto bene io che teoricamente dovrevo essere quello più professionale di tutti gonfio del fatto fiero del fatto che io ero diplomato io avevo studiato con questo grande maestro con quell'altro maestro avevo fatto le masterclass con quello eccetera pensavo che potevo suonare qualsiasi cosa pensavo che potevo andare anche non preparato perché tanto la mia tecnica il mio sapere era tutto cioè questi che sono dei ragazzi che facevano altri lavori di mestiere non i musicisti mi hanno proprio mi hanno umiliato ok e io li ringrazio perché mi hanno fatto capire che loro erano professionali pur non essendo professionisti io dicevo in giro che ero un professionista e non ero assolutamente professionale cioè avevo fatto proprio trasgredito a tutte le regole base ok del lavoro del musicista professionista e lo avevo fatto non con un gruppo top level cioè non è che ero entrato nel gruppo di Vasco Rossi e mi hanno umiliato no in un gruppo in una cover band ok quindi questa è una cosa di una gravità che su di me ha avuto fare un errore così grave io dopo già anni che studiavo musica che lavoravo con le orchestre cioè aver preso sotto gamba una cosa così in maniera stupida lì mi sono veramente messo a pensare ok ho detto forse forse sto fuori strada il problema non è la tecnica il problema non è sapere come si fa il rullo di doppia cassa anche perché in quel tributo non serve il rullo di doppia cassa serve fare un groove preciso ma mettere magari quel colpo di crash al punto giusto perché lì serve lì è utile lì c'è l'arrangiamento no suonare ed accompagnare bello a tempo con la botta come si dice ma senza avere idea di che musica stiamo suonando ok di cosa stiamo andando a fare lì io ragionavo tutto incentrato su di me io sono bravo io ho la tecnica gli faccio vedere io come faccio io quanto soffigo io ho fatto questo ho fatto quello ho il diploma e le cose mi hanno distrutto ok quindi io ero uno che diceva di essere un professionista ma assolutamente un punto primo non lo ero ma secondo non ero professionale loro invece erano molto professionali e infatti loro facevano i loro concerti creavano il loro lavoro attraverso le serate nei locali le serate nelle piazze eccetera e quindi venivano anche pagati e io no ok quindi questa è stata una grande lezione di vita adesso nel prossimo video andiamo a vedere tutto quello che dopo questo evento catastrofico ho dovuto mettere a posto su me stesso e che piano piano poi mi ha fatto risalire la china proprio come approccio mentale e piano piano mi ha rimesso in condizioni non tecniche ma in condizioni proprio mentali per fare poi il professionista e quindi vivere di musica ok? nel prossimo video